La Regione, se vuole andare in gol, deve bruciare i tempi, convocare le parti sociali e dare vita ad un progetto concreto di politiche attive del lavoro. Lo dice il segretario regionale della UIL, Santo Biondo. Il Governo, attraverso la dota economica messa a disposizione con il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, offre un'opportunità importante per tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori calabresi, per i disoccupati, per i net e i lavoratori in CIG, che sono rimasti ai margini del mondo produttivo o ancora non ci sono proprio entrati. Il tempo, però, prosegue Biondo, è tiranno. Entro 60 giorni la Regione deve far avere ad Anpal il suo progetto finalizzato al corretto sfruttamento di una misura fondamentale per creare condizioni di occupabilità. Comprendendo la necessità di rispettare i tempi tecnici della politica per quanto attiene la formalizzazione della nuova giunta regionale, siamo convinti della necessità di bruciare l'età per convocare un tavolo tecnico di confronto approfondito fra le parti sociali, il Presidente della Giunta regionale calabrese ed il responsabile del settore lavoro. Il momento è troppo importante. Pur rispettando i tempi tecnici di composizione del Governo regionale, crediamo opportuno avviare un confronto approfondito e senza steccati di qualsivoglia natura, con coloro che, come il Presidente della Giunta regionale e il responsabile del Dipartimento lavoro, sono nelle facoltà politiche ed amministrative di poterlo fare.